Il sentimento della passione con la filarmonica e il coro polifonico di Mussomeli, il gruppo dei Lamentatori Memento Domini, nella Chiesa di San Francesco, la domenica del 9 aprile 2017. Il sentimento della passione con la filarmonica e il coro polifonico di Mussomeli, il coro polifonico di Mussomeli e il coro polifonico di Mussomeli. Il coro polifonico di Mussomeli e il coro polifonico di Mussomeli, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.